Oggi hai tutto lo spazio che vuoi, tutto il comfort che vuoi, tutta la sicurezza e tutta la libertà che vuoi. Domani ti ricorderai di tutte le persone che hanno voluto viaggiare con te. Nuovo Fiat Fremont, tutte le auto che vuoi. Nuovo Fremont a 24.900 euro, tutto di serie. Sacra Corona Unita, 49 arresti tra Lecce e Brindisi. Tragedia a Guagnano, uccide il figlio di 32 anni. Sanità, Tommaso Fiore si dimette. Aumento benzina, autotrasportatori in sciopero ed è disagio. Calcio, Ferrario a Parma in cambio di Blasi. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. È stato inferto un altro colpo alla Sacra Corona Unita. La squadra mobile della Questura di Lecce ha concluso l'operazione Cinema Store con l'arresto di 49 soggetti sfuggiti alla cattura i capi dell'associazione criminale. Sentiamo. Tre anni di indagine caratterizzata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, captate anche dai colloqui avvenuti in carcere in occasione dell'omicidio di Antonio Giannone, risalente allo scorso aprile 2009, ucciso con due colpi alla testa da Gian Paolo Monaco, elemento vicino al clan Cerfeda. Con servizi di osservazione, pedinamento e controllo degli indagati e con l'utilizzo delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sono stati acquisiti molteplici e gravi elementi indiziari circa l'esistenza di un'organizzazione criminale nel territorio leccese, legata alla Sacra Corona Unita, che ha operato anche attraverso saldi collegamenti con elementi di spicco della criminalità organizzata a Brindisina. Questa mattina la squadra mobile della Questura di Lecce ha eseguito 49 arresti, dei quali 41 in carcere e 8 ai domiciliari, di altrettanti affiliati all'organizzazione criminale, facente capo a Pasquale Briganti, 43enne, e dai fratelli Giuseppe e Roberto Nisi, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ai tre che si sono sottratti alla cattura, un altro soggetto, Teodoro Denuccio. L'operazione ancora in corso si concluderà con l'arresto dei quattro latitanti. Per questo il procuratore Cataldo Motta, nel corso della conferenza stampa, ha manifestato, oltre alla sua soddisfazione per l'importante risultato conseguito dagli uomini della mobile, il proprio rammarico, perché i responsabili dell'associazione sono ancora in ribeltà. Certamente il quadro sarà completato e la soddisfazione sarà maggiore quando saranno assicurati alla giustizia anche questi quattro, che poi sono gli organizzatori, o almeno rispondono, di un'associazione mafiosa in qualità di organizzatori di questo gruppo che agiva principalmente nella città di Legge. Ancora cronaca una tragedia. Ieri sera a Guagnano il padre, forse ubriaco, ha ucciso il figlio di 32 anni mentre era letto i particolari del drammatico episodio nel servizio di Paolo Panico. La tragedia si è consumata in un'anonima palazzina popolare, in via Carlo Alberto dalla chiesa a Guagnano. Enzo Caretto, settantenne, pensionato, era già stato segnalato più volte ai servizi sociali dai carabinieri della stazione locale. L'elite in famiglia ha quasi una routine, l'ultima però è sfociata nel sangue. Giovanni, 32enne, figlio minore, stava dormendo quando per l'ennesima volta le urla si sono levate per casa. Temeva per la madre, anziana, con problemi di deambulazione verso la quale sembrava che il padre stesse sbraitando. Temeva per sua sorella maggiore, anche lei affetta da problemi di salute. La madre ha chiamato i carabinieri, ma troppo tardi. Enzo Caretto, poco prima, aveva afferrato un coltello dalla cucina. Forse il figlio non ha fatto in tempo ad accorgersene, ma mai pensava che l'uomo sarebbe arrivato a tanto. Il colpo di quest'ultimo, nel costato destro, è stato inferto in preda ad un accesso dire incontenibile. Il giovane si è accasciato sul pavimento in una pozza di sangue e in pochi secondi ha smesso di respirare. Inutile la chiamata ai carabinieri, tra l'altro supportati dalla sezione investigativa e l'intervento del 112. Il test confermerà questa mattina che il tasso di alcol nel sangue di Papa Enzo era pari a 1,80, il limite per la guida sicura è 0,50. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Campi Salentina. Si dovrà ricostruire nel dettaglio una dinamica che appare comunque già piuttosto chiara. L'arrestato è stato associato al carcere di Lecce. Passiamo alla politica. In mattinata l'assessore alla sanità della Regione Puglia ha rassegnato le proprie dimissioni. Al suo posto è già stato nominato Ettore Attolini. Le motivazioni della scelta ancora non sono state rese note ma certamente quello compiuto oggi non deve essere stato un gesto pensato all'improvviso e soprattutto comunicato all'ultimo momento vista la celerità con cui il nuovo titolare della delega alla sanità ha preso il suo posto. In tutta Italia continua la protesta degli autotrasportatori relativa all'aumento della benzina giornata nera ieri anche a Lecce e provincia. A tal proposito abbiamo intervistato il presidente della FAI Carlo Taurino nel servizio di Paolo Panico. Arriva puntuale anche nel Salento il blocco dei TIR dovuti ad una protesta relativa all'aumento dell'accise ideata dal governo Monti che dalla Sicilia si sta distribuendo a macchia di leopardo su tutta la penisola. Già questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi c'erano i primi sintomi di un malcontento che a cominciare da tassisti è giunto sino agli autotrasportatori. Le code chilometriche per fare il rifornimento di benzina si uniscono alla preoccupazione per i beni alimentari di prima necessità dunque un intero sistema ad essere bloccato. Abbiamo cercato di capirne qualcosa in più intervistando questa mattina il presidente provinciale della FAI Federazione Autotrasportatori Italiani Carlo Taurino. Oggi la categoria è allo stremo della sopportabilità sia per quanto riguarda il ritorno sullo fatto del gasolio del caro gasolio che non si può comprare a 1,75 euro per chi comunque è sulla strada e lo usa per ragioni professionali ma sia anche per tutta quanta una serie di altre problematiche che il 18 gennaio le associazioni riunite a Roma avevano deciso di non proseguire col fermo organizzato perché il ministro Corrado Passera aveva assicurato che avrebbe accettato quanto era stato promesso dal vecchio governo Berlusconi relativamente ai 400 milioni sulla legge di stabilità che sarebbero andati tutti quanti gli autotrasportatori. Il costo minimo della sicurezza significa che se per viaggiare il costo a chilometro è di 1,20 il trasportatore non può andare a 0,80 oggi questa è la realtà ed ecco perché queste persone e questi autotrasportatori che hanno bloccato quasi tutta quanta l'Italia è perché effettivamente non ce la fanno più. Abbiamo fatto in più, vi dirò di più, abbiamo informato il prefetto, il questore e il comandante della polizia stradale denunciando questi blocchi non autorizzati dicendo questo che su alcune strade provinciali e stradali sono stati organizzati blocchi stradali da autotrasportatori non autorizzati e che non si riconoscono in sigle sindacali. Si pregano le signorie loro di voler intervenire con urgenza per evitare che alcune persone strumentalizzino il malessere della categoria a scopi personali. Cambiamo argomento, si sposa a Lecce, la rassegna dedicata al matrimonio sarà la protagonista dal 26 al 29 gennaio prossimi presso i padiglioni di Lecce Fiere. Oggi c'è stata la presentazione dell'evento. Paolo Panico. Chi sceglie di compiere il grande passo, quello del matrimonio, deve gioco forza a percorrere una serie di tappe, a cominciare dall'organizzazione. Non è facile mettere su una bella cerimonia, i dettagli a cui pensare sono tanti, dall'abito alle bomboniere, dal ristorante al viaggio e visti i tempi che corrono, l'impresa risulta tutt'altro che facile. E' comunque che eventi come quelli di Si Sposa possono essere un valido aiuto. La Kermes, presentata questa mattina a Palazzo Carafe, dedicata al mondo romantico delle nozze, è organizzata da Edizioni Nicole, la casa editrice della rivista Si Sposa, che ormai da sei anni è pubblicata in Puglia Basilicata e dà il nome alla rassegna. Dal 26 al 29 gennaio, presso il polo fieristico di Piazza Palio, andrà in scena questa nuova avventura che vedrà l'esposizione di oltre 100 aziende del settore, provenienti da tutta la regione. Questo evento organizzato in collaborazione con Edizioni Nicole e Publivela. Publivela, come voi sapete, è l'agenzia che organizza l'evento storico Promessi Sposi. L'ambizione è quella di coprire una fascia di territorio che dai nostri dati, quindi da Lecce Nord, Brindisi e Taranto Sud, non viene coperta da Promessi Sposi. Quindi l'obiettivo è quello di dare un prodotto molto bello, elegante, di fatti se abbiamo l'occasione di avervi in fiera, vedrete che gli allestimenti sono curati al massimo, e di avere all'interno della manifestazione una serie di elementi che sono molto fashion. Complimenti agli organizzatori, complimenti perché continuano a ravvivare quelle che sono le iniziative di questa città, una zona fieristica dinamica, una zona fieristica che continua ad essere cuore pulsante delle iniziative rivolte non solo ai cittadini leccesi, ma anche ai tanti turisti che continuano e continueranno ad affollare la nostra città. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio, l'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione, attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole, ora tocca a te. Scegli il sole, ora tocca a te. Si dovrebbe concretizzare oggi lo scambio tra Lecce e Parma del difensore Ferrario e del centrocampista Blasi. A breve dovrebbe vestire la maglia giallorossa all'esterno sinistro Gabriel Silva. Luigi Taurino. Dopo l'acquisto di Jamel Mesbada parte del Milan, proseguono le trattative di mercato in casa giallorossa. Entro la giornata di oggi infatti si dovrebbe concretizzare il passaggio del difensore Stefano Ferrario a Parma. Il centrale di Rho dovrebbe accasarsi nella città ducale con la formula del prestito. In cambio a Lecce arriverebbe il centrocampista Manuele Blasi, che nella formazione di Roberto Donadoni non riesce a trovare spazio. Ma non è questa la sola trattativa che sta imbastendo il DS giallorosso Carlo Osti. A breve infatti dovrebbe arrivare alla corte di Mr. Cosmi l'esterno sinistro brasiliano Gabriel Silva. Nell'operazione rientrerà il difensore maliano, di proprietà del sodalizio di Via Templari, dei Diamutene, che andrà a giocare nel Granada, società spagnola di proprietà della famiglia Pozzo. Un altro rinforzo addirittura d'arrivo è rappresentato dal difensore uruguayano attualmente in forza a Livorno, Miglionico, voluto fortemente dal tecnico perugino, che lo ha avuto ai suoi ordini quando allenava la società a Maranto. Sul fronte attacco, invece, si cercano fortemente Kozak della Lazio e Bogdani del Cesena, che potrebbe essere ingaggiato in cambio del centrocampista Carlos Grossmuller, anche se ancora non si sono perse le speranze per Vincenzo Iaquinta. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.